Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con una lezione breve, visto che oggi il mondo celebra il San Valentino, e come sono stato guidato dallo Spirito, ho trovato un po' di informazione che volevo fare riguardo questo giorno qui. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa, nel nome di suo figlio e nostro re, salvatore e rendentore, Yahawa Shai. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, e pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra. Shalom. Eccoci qui su Wikipedia, il significato di San Valentino. Poi c'è questa foto qui che è, sì, una foto del ventesimo centurio, non lo so perché non è in italiano quello lì. Dunque, eccoci qui. La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo, soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente. L'origine festività religiosa prende il nome del santo e martire cristiano Valentino di Terni e viene istituita nel 496 dal Papa Gelasio I, andando a sostituire alla precedente festa pagana dei Lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festa romana. Perciò, per l'ennesima volta, questa è una festa antica romana che fanno per dei dei che andrò a farvi vedere adesso. non ha nulla a farvi vedere cosa di innamorati o chissà cosa qui. È paganissimo ed è satanica. Ecco, cosa fanno questi Papa qui? Cercano, non è che aboliscono queste cose pagane, cambiano la forma e danno un nuovo nome, ma i riti li fanno continuamente. Ora andiamo a vedere che cosa è Lupercalia, che sarebbe il vero, il vero San Valentino. Perché vedete, l'origine della festa, ok? È Lupercalia, Lupercalia. Ora andiamo su Lupercalia, che ho qui, Lupercalia. Questa immagine, rappresentazioni dei Lupercalia, Romulo e Remy, fatti mangiare, sì, vabbè, adesso non riesco neanche a tradurre. Dunque, ha a che fare. Leggiamo. I Lupercalia erano una festività romana che si celebrava nei giorni nefasti di febbraio, mese purificato dal 13 fino al 15 febbraio, vedete, in onore del Dio Fauno. Andiamo a vedere cos'è questo Dio Fauno. Vedete? È un demone questo. Essere mitologico, metà umana e metà capra. Vedete? Questo oggi è dedicato a questo Dio qui, ok? Ora non vado a leggere tutto, ma se volete leggere basta andare su Wikipedia e avete tutte queste informazioni qui. Infatti, avevamo sentito prima... Abbiamo sentito che è stato cristianizzato da questo Papa Gelasio I, vedete? Lupercalia furono una delle ultime feste romane ad essere abolite dai cristiani. In una lettera di Papa Gelasio I si riferisce che la Roma durante il suo pontificio... Dunque, non vado a leggere tutto questo. Ho solamente fatto vedere che questo giorno non ha nulla a che fare per gli innamorati, ok? Ha a che fare, in adorazioni, vedete? Di questo mezzo uomo e mezzo capra qui che è riconosciuto come Baphomet, Satana che potete anche vedere qui, per esempio. Baphomet, sulle immagini, vedete? Questo è Baphomet, ok? Ed è conosciuto come Satana, ok? Perciò dobbiamo fare attenzione a queste feste mondane che non fanno parte delle nostre scritture. Noi non facciamo parte di questo mondo qui. Siamo in questo mondo ma non facciamo parte di questo mondo. Seguiamo solamente i comandamenti del Padre e i Suoi insegnamenti e feste. Perciò, vedete, qui, Esselo, capitolo 23, ci è stato detto Non avrai altri dei davanti a me. Non avere altri dei davanti a me, vuole dire. Vediamo qui. Avevo lasciato questo versetto. Dunque dice, non avere altri dei davanti a me. Non fare nessun o qualsiasi immagine perché questo è stato tradotto da Google qualche volta me lo traduce bene qualche volta fa quello che vuole non ti farai a te qualsiasi immagine scolpita né immagine alcuna di qualsiasi cosa che è là su nel cielo o che è qua giù sulla terra o che è nelle acque sotto la terra non ti inchinare davanti a loro né li servirai poiché io, l'Eterno, il tuo potere, Yahawa sono un potere geloso che visto l'iniquità dei padri sui figli fino alla tezza e quarta generazione di coloro che mi odiano e questo, sono visto l'iniquità per capirne di più basta andare a vedere i video che ho fatto riguardo la rincarnazione è biblica questo è quello che sta dicendo che il padre rivede rivede l'iniquità per esempio se uno pecca in questo mondo fa delle cose che il padre ritesta cattivi perché quando muore muore solo il corpo torna in questo mondo di nuovo e quando torna ripaga in qualche modo quello che ha fatto il padre lo può fare nascere o può fare avere situazioni diverse ok? perché è quello che dice qui dunque abbiamo un potere geloso noi non dobbiamo inchinare a queste cose qui poi il secondo libro di Corinzi ok? che è secondo libro di Corinzi capitolo 2 e versetto 11 dice affinché non siamo sovvecchiati da Satana già che non ignoriamo le sue macchinazioni ok? perdonatemi un attimo e questo è un versetto che abbiamo sempre guardato e ce l'ho qui affinché Satana non sia vantaggi di noi perché non ignoriamo i suoi stratagemi ok? ora andiamo a vedere il significato di stratagemi qui dice dispositivi che è la parola che hanno sostituito con stratagemi vediamo cosa dice viene dalla parola greca noa e me noa e me noa e ma noa e ma ok? vediamo il significato una percezione cioè uno scopo o implicitamente l'intelletto la disposizione lo stesso dispositivo mente pensiero vedete ha a che fare con un intelletto perché loro girano queste cose per ingannarvi è un inganno ok? una percezione mentale pensiero uno scopo malvagio cioè che pensa la mente i pensieri e gli scopi ok? vedete dunque uno scopo malvagio uno scopo malvagio una percezione mentale ok? vi fanno adonare dei dei che voi non conoscete ok? dandogli nomi diversi e quando partecipavo alla chiesa per la chiesa era una cosa normale perché erano tutti i cerchi i patri li ha chiuso gli occhi allora non riescono a vedere la malvagità dietro queste feste qui e io non vado qui potrei andare molto di più ma mi fermo qui per chi si interessa basta che vada a leggere tutto il resto e vedete vi leggo per l'ultima volta i lupecali erano una festività romana che si celebravano nei giorni festivi di febbraio mese purificatorio dal 13 fino al 15 e prima come avete visto abbiamo San Valentino prima adesso adesso perché mi non mi lo dà vediamo ecco San Valentino dice la festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati celebra in gran parte del mondo ok dice l'origine festività religiosa prende il nome da San e viene istituita nel 496 da Papa Gelasio il primo andando a sostituire la precedente festa pagana dei lupecali che abbiamo visto adesso perciò cliccando su questa lupecali vedete che cosa è ok era una festività romana che si celebrava nei giorni nefasti di febbraio mese purificatorio dal 13 fino al 15 febbraio in onore del Dio fauno e cliccando il Dio fauno vedete cosa è vedete cosa è un essere mitologico metà umana e metà capra ok detto questo spero che siete stati vedete anche anche la faccia di ecco un'immagine più vedete questo voi adorate questo oggi questo giorno qui quelli che fanno l'amore queste cose che richiama questi fanno parte dei riti visto che non posso leggere tutto non volevo se volete leggere tutto andate avanti questo giorno cosa fanno i romani fanno il sesso oggi queste cose qui queste queste sporcizie ok giusto per adorare questo questo diavoletto qui detto questo spero che siete stati edificati alla prossima voglio dare tutti i lodi dovuto al padre e mi doppio onori agli apostoli anziani della great milestone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità e pace saluti agli eletti della casa di Yasharala alla prossima Shalom all'am